È scoppiata prima in rete e poi proseguirà in tribunale la bufera scatenata da Rita dalla chiesa furiosa contro Michele Santoro dopo l'ultima puntata di M su Rai 3. La conduttrice e il fratello Nando hanno palesato una legittima indignazione nei confronti del giornalista che durante la trasmissione incentrata su Aldomaro ha associato il nome del generale dalla chiesa alla P2. La grave accusa secondo cui un uomo di stato come Carlo Alberto dalla chiesa fosse legato alla nota loggia massonica non è nuova ma è sempre stata fermamente smentita dai familiari del generale assassinato, lo ricordiamo, in un agguato mafioso nel settembre 1982 a Palermo. Dal suo blog Nando dalla chiesa tuona è brillata ancora una volta la reiterata accusa al mio padre di essere stato iscritto alla P2 e di essere stato leale all'antistato. Falso Facebook annuncia querele verso le dichiarazioni occorse nello studio di M a rincarare la dose Rita dalla chiesa furiosa, esasperata e delusa da Santoro. Adesso basta, adesso siamo realmente indignati a gridato sui social, inaccettabile una trasmissione pasticciata e zeppa di gravi bugie. E ancora, la vita è una cosa seria caro Santoro, non ti permettiamo di sporcarlo con i tuoi soliti vecchi veleni.